Ciao da Absin, quando ordini Di Maria su Wish e poi ti arriva Berardi, quando lo ordini e quando ti arriva, no, a parte le battute, salta definitivamente Angel Di Maria alla Juventus, in realtà già da diversi giorni si era capito che la trattativa non sarebbe andata in porto e il piano B presentato dai giornalisti è Berardi, Mimo Berardi del Sassuolo. Presentato dai giornalisti, ma attenzione, cominciamo ad inquadrare la notizia nel calciomercato ragionato che sempre cerco di proporvi, non si tratta di un nome venuto fuori all'improvviso da qualcuno che se l'ha inventato perché abbiamo diverse redazioni, diverse testate che ne parlano in maniera univoca e in maniera chiara e coerente, quindi dobbiamo pensare che ci siano delle fonti dirette da parte della Juventus che dicono che effettivamente si sta inseguendo a questo punto Mimo Berardi. Parliamo però prima dell'operazione Di Maria perché è saltata come è saltata e cominciamo a fare i complimenti alla dirigenza della Juventus. Eh sì, complimenti alla dirigenza della Juventus perché quando io ho detto no secco dal mio punto di vista a Di Maria ho detto no secco spiegando che non aveva alcun senso andare ad investire soldi parecchi per un giocatore 34enne che era mentalizzato esclusivamente sul mondiale e sul suo finale di carriera. Di Maria l'ha detto voglio un contratto di un anno in Europa per andarmi a giocare il mondiale poi me ne torno in Argentina al Rosario Centrale. Quindi Di Maria ha già la sua strada tracciata, il suo percorso che mette in evidenza le sue priorità nelle quali non c'è la Juventus, non ci può essere la Juventus né l'altro club dove adesso andrà che potrebbe essere il Barcellona. E quindi ho detto meglio di no, non facciamo questa operazione, soprattutto se lui chiede il contratto di una sola stagione che significa non poter beneficiare neanche dello sconto fiscale del decreto crescita e quindi andare a spendere un sacco di soldi. Per un giocatore che non è mentalizzato nel progetto, che se ne va nel giro di poco e devi tornare a fare mercato per sostituirlo. E non vale neanche il discorso Di Maria ti serve per far crescere su Lea che è o per aspettare Chiesa perché sono cose diverse e Di Maria di certo non sarebbe venuto alla Juve a fare la chioccia ma a giocare titolare. A giocare titolare. Ora che sembra che le motivazioni della dirigenza della Juventus che hanno portato appunto la dirigenza a far saltare questa operazione sono le stesse praticamente che avevo tirato su io, chiedo ai tifosi aziendalisti se chiedono scusa a me per avermi criticato per quelle motivazioni, per quel no a Di Maria oppure se criticano pure la dirigenza. Cioè non è che potete dire che la dirigenza ha ragione e ha fatto bene però io avevo torto, delle due l'una si deve cercare un po' di coerenza. A parte questo complimenti quindi alla dirigenza della Juventus per aver capito che era un errore, per non aver accettato le tempistiche e le condizioni di Di Maria anche se pare che l'ultima offerta poi saltata perché non si vuole più aspettare fosse proprio nel senso di un contratto per una sola stagione. Quindi un po' la dirigenza sarà anche piegata, però sono complimenti da circoscrivere perché comunque si è buttato tempo. Siamo arrivati all'8 di giugno e io lo ripeto è tardi, è tardi perché il 4 luglio comincia il precampionato e non abbiamo il barlume di una rosa definita. E quindi adesso puntiamo al piano B che sa tra l'altro di essere il piano B Berardi, quindi sa di non essere la prima scelta, non so se questo può contare qualche cosa, ma comunque iniziamo col piano B l'8 giugno. Eh Avsim ma che ne sai se la dirigenza non ha tenuto la trattativa su due piani paralleli iniziando a trattare per Berardi pure prima senza che lo sapessimo. Me lo auguro, però se tu nel frattempo aspetti Di Maria non affondi per Berardi, per quanto potessi avere già avviato dei discorsi non penso che ieri salta Di Maria e oggi viene Berardi, ma neanche la settimana prossima. Serve tempo anche perché devi andare ad arenarti nelle sabbie mobili delle trattative con Giovanni Carnevali del Sassuolo come abbiamo visto l'anno scorso con Locatelli che ci abbiamo messo più di due mesi per prenderlo alle stesse cifre richieste dal Sassuolo a inizio trattativa con l'unica differenza che formalmente l'abbiamo iscritto a zero a bilancio per due anni con questa formula del prestito. Poi in realtà si è scoperto, fonte calcio e finanza, che la Juve lo sta già pagando Locatelli e lo sta già anche ammortizzando, quindi quei 40 milioni di costo sono già sulle casse della Juventus. E quindi quanto tempo poi ci vuole per andare a prendere Berardi? Se ci riesci, se ci riesci perché altrimenti serve un altro piano, serve il piano C. Quindi complimenti alla dirigenza per aver fatto saltare per queste motivazioni l'operazione di Maria, perché l'operazione di Maria non si doveva fare e doveva saltare proprio per queste motivazioni, ma nessun complimento ed anzi critiche per averci messo tutto questo tempo, per avere perso tutto questo tempo. E comunque se Allegri reclamava di Maria come apprendiamo e di Maria non viene, siamo già agli alibi, perché Allegri la prossima stagione potrà dire io volevo di Maria non è venuto. E chissà se lo dirà davvero o se lo dirà magari con giri di parole per evitare di sembrare l'Antonio Conte del 2014, non puoi andare al ristorante da 100 euro con 10 euro in mano. Ma Allegri le critiche alla Rosa non le ha risparmiate mai in questa stagione, tranne la parte iniziale quando aveva detto che la Rosa era ottima, era quasi perfetta ed era entusiasta, si era detto entusiasta di allenare questi ragazzi. Poi a un certo punto nel corso della stagione le cose andavano male ed è cominciata ad essere colpa dei giocatori. Ma a prescindere dalle pretese di Allegri, io indosso la maglietta Allegri Out per un motivo che vi spiego subito. Non è che puoi partire da Di Maria e arrivare a Berardi. Ripeto, per me Di Maria non si doveva fare, ma certamente molto più forte di Berardi, che non è da buttare Berardi e ci arriviamo dopo, vi dico come la penso. Perché però Allegri Out? Perché la domanda fondamentale da farci a questo punto è, chi sta facendo il mercato della Juventus? Che Rubini sta facendo veramente lui il mercato nel senso di essere un direttore sportivo che sceglie gli obiettivi dialogando con l'allenatore e li va a prendere? Oppure è un esecutore materiale direttive di altri? Oppure è un esecutore materiale, praticamente un faccendiere, un tuttofare, che gli dicono cosa fare, dove andare, con chi parlare e lui lo fa? A questa domanda non credo che avremo risposta, ma ognuno può farsi il suo convincimento, ognuno può pensarla come vuole. Io ritengo che prevalentemente che Rubini sia un tuttofare mandato da altri a fare cose che lui non sceglie. Ed è incredibile se ci pensate come la società Juventus, che è una grande società o dovrebbe essere una grande società, con una struttura complessa e anche costosa, non si affidi minimamente allo scouting. Lo scouting alla Juventus esiste soltanto per andare a prendere dei giovani di belle speranze da piazzare in under 19 e in under 23. E poi vediamo, quello è lo scouting della Juve, ma per la prima squadra siamo a zero, siamo a zero totale. Già prima poca roba quando c'era ancora Paratici, ma adesso veramente zero, veramente zero. Cioè vai su Berardi che era già della Juve, perché Berardi è stato acquistato dalla Juve nel 2013, chi se lo ricorda, dal Sassuolo dove aveva fatto le giovanili, per 4 milioni e mezzo. E poi due anni dopo, dopo un prestito biennale, fu acquistato definitivamente dal Sassuolo a 10 milioni. Poi mi pare che c'era una clausola di riacquisto che poi non è stata esercitata, perché Berardi ha anche già rifiutato la Juventus e si è sempre detto che preferissi andare all'Inter. Quindi torni su Berardi, che era stato indicato come un obiettivo e una richiesta di Allegri già mesi fa. Torni su Berardi, torni su Pogba, vai a prendere Di Maria, Morata, di cui vi parlo in un altro video, l'hai avuto, l'hai ripreso e adesso lo riprendi per la terza volta per non farla andare via definitivamente. Siamo al leave behind continuo, si va sempre a riciclare e non c'è scouting, non c'è scouting. Possibile che non ci sia nessun giocatore che non sia già conosciuto ad Allegri, che vada bene per poter essere acquistato ed utilizzato la prossima stagione. E ripeto, Allegri è veramente il direttore sportivo occulto di questa squadra, di questa società. E non va bene, perché hai cambiato l'organigramma, hai cambiato lo staff dirigenziale, con quale impatto, con quale conseguenza? Che Allegri ha l'erba voglio e gliela portano. Allegri dice voglio questo, voglio quest'altro e gli portano questo e quest'altro. Ma non puoi programmare in questo modo, non puoi andare ad eseguire pedissequamente le richieste dell'allenatore senza poi una visione chiara. Perché prima di parlare di Berardi vorrei anche dire questo, ma quale sarà il modulo della Juventus la prossima stagione? Perché si dice 4-3-3. Si dice 4-3-3, ma io ho il timore, e ne parlerò appunto nel video che uscirà dopo su Morata, che si stia andando invece verso un 3-5-2. C'è anche questo dubbio. Ecco, però, a livello poi di collocazione in campo, si sta puntando a prendere Berardi. Ok, quindi Berardi dovrebbe giocare sul lato destro, a piede invertito, come è abituato a fare. Ma quindi si sta decidendo che Chiesa, quando rientrerà, sarà condannato a giocare a sinistra, a piede invertito pure lui. Come funziona? Chi ha deciso e perché che Chiesa, dopo un'intera carriera a destra, prevalentemente a destra, deve essere slittato a sinistra? Non dico che sia sbagliato, ma sulla base di cosa lo stiamo decidendo? Qual è la programmazione di lungo termine da questo punto di vista? Senza contare che, comunque, noi avremo sempre dei giocatori, ecco, giovani, come Sule, come Ake. Senza contare che avevamo Kuluseski. Avevamo Kuluseski che non ci si è voluto lavorare ed è stato venduto al Tottenham ed è esploso al Tottenham. Non era meglio tenersi Kuluseski senza dover rincorrere Di Maria e poi Berardi. Ci tenevamo Kuluseski, si lavorava su Kuluseski, Kuluseski poteva migliorare e restava lui. A giocare a sinistra, però, dove, secondo me, gioca meglio. Kuluseski gioca meglio partendo da destra se deve andare nel mezzo spazio, se deve andare nella zona centrale, a fare da rifinitore sotto punta. Ma se deve fare all'esterno, secondo me, gioca meglio a sinistra, dove ha giocato spesso nella nazionale svedese con ottimi risultati sul piede forte. Ma comunque lo volevi mettere a destra e lo potevi giostrare tra tutte e due le fasce, ma era Kuluseski che avevi pagato 44 milioni e te lo tenevi invece di mandarlo via dopo un anno e mezzo. Quindi, vedete, programmazione che veramente non esiste. Detto questo, non significa che Berardi sia un no. Dal mio punto di vista, Berardi è un sì, ma bisogna inquadrarlo. Cioè, Berardi non è un acquisto da Champions. Berardi è un acquisto da Serie A. E allora, che Juve siamo? Che Juve è diventata? È diventata una Juve che, da che dominava in Italia, senza riuscire ad essere veramente competitiva in Europa dopo il 2017, perché dopo il 2017 la Juve ha smesso di essere competitiva sul serio in Europa, siamo diventati una squadra che non solo non è competitiva in Europa, ma non ambisce neanche ad essere competitiva in Europa. Ed anzi è disperata nel tentativo di tornare ad essere competitiva in Italia. Berardi è un acquisto da Serie A. È un acquisto da calcio italiano. È un acquisto domestico. Non è un acquisto europeo. Non è lungimiranza europea. Non è rilancio europeo. Quindi stiamo vivacchiando. E attenzione, non stiamo parlando più dell'Instant Team. L'Instant Team va bene se prendi Perisic, Di Maria, Pogba. Ecco, Perisic poi esalta. Rudiger. Poi non ne parliamo dei trionfalismi e dei titoloni altisonanti dei giornali che hanno fomentato la solita tifoseria aziendalista, che va sempre tutto bene. I soliti va-benisti. Poi quando le cose vanno male, spariscono. Non sono coerenti minimamente nel criticare. Prima esaltano. Poi se le cose non vanno bene, non criticano. Quindi va sempre tutto bene. Lasciamo stare questo. Quello lì era un Instant Team. Ma se vai a prendere Berardi, che è più giovane perché deve ancora compiere 28 anni, primo agosto 94, insomma più giovane, ma certamente non è a fine carriera. Può, diciamo, strappare in questo caso il contratto più importante della sua carriera in una fase quasi finale. Ecco, stai andando a fare una squadra per i prossimi anni. E onestamente, Berardi nei prossimi anni può fare quel salto di qualità con la Juve, portando la Juve ad essere una squadra competitiva in Europa? Mimmo Berardi? Io ho qualche dubbio. Poi, per quanto riguarda la Serie A, dubbi ce ne sono pochi. Perché questa stagione 34 presenze, 15 gol e 17 assist. La scorsa 30 presenze, 17 gol e 8 assist. 19-20, 32 presenze, 14 gol e 10 assist. 18-19, 37 presenze, 10 gol e 4 assist. 17-18, 33 presenze, 5 gol e 2 assist. Quindi, sono 4 stagioni consecutive che Berardi va in doppia cifra di gol e quasi sempre in doppia cifra. Vabbè, 2 su 4 anche in doppia cifra di assist, quando ne è fatti 10 e 17. 16-17, 25 presenze, 10 gol e 11 assist. 15-16, 31 presenze, 7 e 7. 14-15, 34 presenze, 15 gol e 16 assist. 13-14, 30 presenze, 16 gol e 6 assist. Precedentemente con il Sassuolo aveva giocato in Serie B. Un totale, quindi, da professionista di 325 presenze con 120 gol e 84 assist, di cui in Serie A 271 presenze, 101 gol e 73 assist, ma a livello UEFA ha fatto 4 misere partite di qualificazione all'Europa League con 5 gol e 1 assist nella stagione 16-17. In Nazionale 24 presenze, 6 gol e 2 assist. Questo è Berardi. Tendenzialmente bene dal punto di vista degli infortuni, come vedete, gioca sempre tanto. Numeri importanti. È un giocatore forte in Serie A. Vi cito qualche altro dato, fonte who scored. Di questa stagione, Berardi è il risultato il migliore in assoluto per assist ogni 90 minuti. 0,4 insieme a Cialanoglu. Il secondo, in assoluto, per chi passes ogni 90 minuti. 2,5 dietro Cialanoglu a 2,6. Il cinquantacinquesimo per palle perse, quindi mettendo in testa chi ne perde di più ogni 90 minuti, 1,9, quindi non sono tante. L'ottavo per gol ogni 90 minuti, 0,5. Il settimo per tiri totali ogni 90 minuti, 3,3. Il novantesimo per dribbling riusciti ogni 90 minuti, 0,9. Quindi sui dribbling non è il massimo. E diciamo che è un po' lacunoso dal punto di vista della fase difensiva. Quindi, se stanno pensando ad un 4-4-2 o 3-5-2, Berardi non dovrebbe essere il nome giusto. Berardi è da 4-3-3. Però non possiamo leggere Berardi o Zaniolo. Ecco, magari Zaniolo non è veramente nelle intenzioni della Juventus o non lo è più. Si sta parlando più di Milan per Zaniolo, che costerebbe sicuramente di più. Ma voglio anche vedere quanto costa Berardi. Secondo me si parte da 30 milioni e si può tranquillamente arrivare a 50. E va bene così? Dobbiamo spendere più di 30 milioni anche per Berardi, dopo che ne abbiamo spesi 60 per Chiesa, che è forte ma non vale 60 milioni. 40 per Locatelli, che non vale 40 milioni. Sì, 80-90 per Vlaovic, che è forte ma attualmente non vale, secondo me, 80-90 milioni. Quanto andiamo a spendere per Berardi? Quanto tempo dura quella trattativa? Ed è un acquisto valido. È un acquisto valido, però non possiamo pensare di sostituire Dybala, che ti poteva consentire di essere competitivo anche in Europa, con Berardi. Ma anche dal punto di vista dell'immagine. Dybala è uno seguitissimo sui social, Berardi onestamente è a livello europeo chi lo conosce, con tutto il rispetto. Quindi, vedete, è una Juve che si sta rendendo una squadra da calcio italiano, da competizione domestica. Quindi è un downgrade. Quindi è un downgrade. Ora, io l'entusiasmo dei tifosi onestamente non lo capisco. Lo rispetto, lo rispetto, ma non lo capisco. L'entusiasmo ti deve venire quando vai a comprare un giocatore che magari conosci poco, ma di grande potenzialità, che ti può portare a fare il salto di qualità nei prossimi anni. Qui si sta andando, ripeto, a vivacchiare, a livellarsi in orizzontale su un livello che era stato già raggiunto prima e che si vuole praticamente mantenere. Quindi, non c'è uno slancio verso l'alto. E soprattutto, capisco anche la delusione dei tifosi che da Di Maria si passi a Berardi, anche se, ripeto, io sono contento che è saltata l'operazione Di Maria. Non sono contento di come si sta cercando, da una parte di sostituire di Dybala, dall'altra parte, in generale, di rinforzare questa squadra. Perché Berardi non è un rinforzo vero e proprio. Cioè, Kuluseschi, ecco, tornando al discorso Kuluseschi, scusatemi, ma Kuluseschi, con quello che ha dimostrato in Premier League, non era più lui un giocatore da salto di qualità europeo, da competitività in Europa e, di conseguenza, competitività in Italia. Perché le competizioni europee sono più difficili, anche le competizioni domestiche e straniere, come la Premier League, sono ad un livello superiore rispetto alla Serie A, quindi, se ti poni ad un livello adeguato di competitività per il calcio europeo, automaticamente sei più forte in Italia. E invece cerchiamo, semplicemente, di ritornare ad essere forse, forse i più forti in Italia. bisogna anche vedere, perché davanti, in questo momento, abbiamo, come minimo, Milan-Inter e Napoli. Ma l'anno prossimo potrebbe rinforzarsi la Roma, potrebbe tornare ad essere forte l'Atalanta, la Fiorentina potrebbe dire la sua. Non sappiamo come ci collochiamo nello scacchiere, che livello riusciamo a produrre. In tutto questo, vi devo anche una precisazione, perché ve ne ho parlato ieri, sul caso Quadrado, perché, come sapete, ieri Quadrado ha scritto un tweet e ha pubblicato una storia su Instagram che ha dell'incredibile, dove ha scritto e io mi trovo molto bene, mi sento molto bene alla Juventus, non ho rifiutato nessuna offerta, perché non c'è mai stata, semplicemente, nessuna trattativa, ho grande rispetto per il club e per i compagni. Ma vi sembra normale che un giocatore, che tra l'altro è alla Juve da tempo, che è praticamente un senatore, che è stato anche eretto a simbolo di entusiasmo, di amore per la Juventus, come simbolo per la tifoseria, sia costretto a fare una precisazione a titolo personale sui social, cioè qui praticamente stanno volando gli stracci, ma dove l'avete mai vista una società di primo livello, una società vincente di primo livello, dove succedono queste cose? Allora, anche qui, chi è che è il dirigente di questa Juve? Arriva bene, che ruolo ha? Si possono evitare queste cose? Perché vengono messe in giro voci su Quadrado, che ha rifiutato la trattativa, e la dirigenza è spazientita? Perché noi abbiamo letto la dirigenza storto il naso, non è che abbiamo letto soltanto notizie secche su Quadrado, eccetera, eccetera, che potevano essere anche ricostruzioni giornalistiche, noi abbiamo letto dirigenza spazientita, dirigenza contrariata con Quadrado, chi gliel'ha detto? La dirigenza! E allora, se la dirigenza è spazientita e contrariata e lo fa sapere tramite i giornali, poi arriva la risposta di Quadrado, ma siamo un circo? Siamo un circo? Ma non quello degli animali, quello dei clown? Davvero una situazione imbarazzante. Poi la tifoseria per il momento si stringe attorno a Quadrado chiedendogli di restare, mostrandogli affetto, amore, eccetera, poi magari Quadrado resterà e la frattura si è composta così, però è ridicolo, capite? E tra l'altro in tutto questo c'è ancora il discorso mercato, come ho già detto, perché se Quadrado se ne deve andare perché la società l'ha messo sul mercato, se, se, quando lo sai se se ne va? Quando capisci come sostituirlo? Ecco, anche poi in funzione di quale modulo, perché Quadrado in un 3-5-2 ti va benissimo, anche nel 4-3-3 perché ha fatto sempre tutta la fascia, sia come difensore che come ala, ma se se ne va devi decidere come sostituirlo da un punto di vista del terzino, se viene Molina e ve l'ho detto che sarebbe un upgrade per carità andrebbe bene, ma anche dal punto di vista dell'ala, perché poi se fai il 3-5-2 Molina per esempio dove lo metti, ipoteticamente? Insomma, tanto caos, tanta confusione, complimenti alla dirigenza per aver fatto saltare di Maria perché sono assolutamente d'accordo, ma il piano B Berardi è soltanto un acquisto per la competitività italiana e poco di più. Grazie per la vostra attenzione, intanto vediamo se viene Berardi e ripeto, quanto tempo ci vuole, ditemi la vostra nei commenti, immagino che ci sia tantissimo da dire da parte vostra su Berardi con l'operazione di Maria Saltata e quindi grazie per la partecipazione nello spazio dei commenti, mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Gli abbonati a questo canale a partire da 99 centesimi al mese hanno la programmazione quotidiana con orari e argomenti sui nuovi video in uscita e l'accesso alle chat riservate sul mio server Discord oltre ad altri vantaggi. Valutate quindi gli abbonamenti. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie a tutti!